Amici sport casertano, buonasera. Parliamo dopo una vittoria a mio modo di vedere storica che ci permette ancora di sognare e di poter raggiungere la vetta della calcifica. Fra le cinque partite ancora da disputare, forse quella un po' più difficile, ma noi e la Salernese dobbiamo incontrare il Martina Franca in casa, però la voglia che hanno queste ragazze che hanno messo in gamba anche contro l'Ischia, vogliono vincere a tutti i costi, fa sperare per il futuro della casertana. È pur vero che la casertana è stata avvantaggiata moltissimo, non sono d'accordo con l'allenatore che un uomo in più non significa ben poco, perché l'Ischia non stava offendendo, è vero, però l'Ischia aveva talmente bloccata bene le fasce, basta vedere, lui l'allenatore l'ha detto che la casertana ha avuto qualche limite sulle fasce e anche a centrocampo ha tolto quell'occasione di Maiella, dove la difesa e i due centrali avevano sbagliato e lui si è presentato a tu per tu con incarnate, là per me è un gol mancato, non è una grande parata del portiere, anche se gli è uscito brillantemente incontro, fino a quel momento i valori in campo erano quasi uguali, la casertana aveva offeso poco, bisogna vedere dopo, anche se rimanevano 11 con l'ingresso di Pastore che cosa cambiava. La partita doveva essere vinta da una delle due squadre con un gol d'occasione, meglio che ha vinto molto molto meglio la casertana, così ha raggiunto l'obiettivo delle 5 vittorie consecutive e può ancora sperare in un aggancio alle prime della visita, la distacca di solo 3 punti, 3 punti te li puoi giocare nell'incontro casalingo a Martina e puoi ricacciare nel gruppo il Martina. La Sanese ha tolto l'ultima partita casalinga, a Martina nelle 4 diciamo così che sulla carta ha partite molto più agevole rispetto a noi, noi dobbiamo giocare col Brindisi, poi col Gaeta e con l'Inter Napoli dopo Campania, questo fa sì che tutta la desforia può ancora sperare fino alla partita di Martina Frank, perché poi Martina è il club dove se vinciamo andremo ancora col vento in poppa per poter vincere questo campionato. La partita ostica è sabato, è una squadra che l'ha dimostrata qua quando è venuto a giocarci in casa con noi che non ci ha permesso di giocare, è una squadra che da 3 anni ha tolto l'attaccante di Palma che sono venute in Serie D, sono state prese in Serie D, è una squadra che per 7 o in alcune gare anche 8-11 giocano insieme da 3 anni, si conoscono a memoria, è una squadra che quando gioca sul proprio campo è una squadra che rende la vita difficile a tutti, ha superato anche il momento critico perché qualche partita l'aveva persa proprio in casa anche 3 domeniche fa, ma poi si è ripresa ed è una partita che dobbiamo affrontare con le pinze e cercare di portare in porto i risultati. La partita è la nostra portata perché se andiamo a valutare i calciatori che ci creiamo in campo noi e quello che ci creerà in campagna, noi sulla carta siamo vincenti, però dalla parte sua il campagna ha un gioco di squadra, un gioco che annulla molte volte a centrocampo la squadra avversaria e io mi auguro che il mister Ferrara domenica, sabato, ripeta anche un po' la formazione perché uno dei limiti della partita con Lischi è che mentre noi giocavamo con due in supporto o di Matera o di Ruocche, venivano da una mano al centrocampo, Lischi giocava con tre centrocampisti e a turno Trofa e Sposelo venivano a dare una mano al centrocampo, questo è il limite nostro purtroppo di quest'anno e io mi auguro che sabato, mister Ferrara possa trovare qualche accorgimento e che noi possiamo tornare i vincitori da della vigna. È tutto, buona pace a tutti coloro che ci seguono, anche come ho detto in televisione, anche a coloro che non ci amano e sono costretto a seguirci per le cose che diciamo.